Siamo Villasor, questo è il municipio, questo è uno striscione, nostro il futuro, nostro la terra, Sardini-Aresti. C'è un bel po' di polizia in giro. E' bello vedere tanti giovani a queste manifestazioni, non che sia molto numerosa, però è quasi composta al 100% da giovani. E questo è una bella... una bella notizia. Ciao! Sim! 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 Eccolo! Siamo di accordo! Pochi vecchietti, tantissimi giovani, vabbè, questo è... è tanta polizia, eh! Tanta, tanta, tanta polizia. E' passata una signora prima, una signora, vabbè, dai! Sarebbe un eufemismo, come ho visto tanti giovani con le bandiere, eccetera, ha detto... Sarebbe dei bufoni! Dai, c'è solo da... c'è solo da... c'è solo da ridere... Quando invece si vede l'impegno di... di tanti giovani che attirano anche... anche la polizia. Vabbè, dai, questa è Villa Sorra, oggi... un... un motivo per... per rendere meno sonnacchiosa questa... questa cittadina del Campidano. Siamo... vediamo l'aeroporto militare della Nato a quattro chilometri, quasi quasi si insinua dentro il paese. Diciamo che possiamo vivere di altro che non di militari e robe del genere. Possiamo vivere di altro. Dai! Per adesso le riprese sono terminate.